Diario di una schiappa Sì, è la mia prima volta in Turin Sono molto felice di essere qui, ci sono tantissimi fan entusiasti e tantissime persone che amano leggere Beh, la mia prima volta qui al Salone a Torino è fantastica, un'esperienza splendida è pieno di bambini appassionati di lettura e di ragazze appassionati di lettura Un segreto da offrire e regalare a un genitore per fare innamorare i propri figli della lettura prima di tutto e poi della scrittura Sì, provi a dare ai vostri libri che fanno il loro interesse quindi se sono interessati in, per esempio, videogame trovi molti libri con videogame se sono interessati in sciarri diamo i libri sui sciarri è tutto per alimentare i loro interessi sì, il mio consiglio è consigliare è dare ai ragazzi e ai bambini libri che risvegliano il loro interesse quindi se loro sono appassionati, per esempio, di videogiochi ha fatto l'esempio di quel libro dategli i libri che hanno all'interno di videogiochi sono appassionati di squali? Fate la stessa cosa My last question, la mia ultima domanda che cosa ti ha regalato nella tua vita lo scrivere per bambini? I think it gave me a window into another world so I could experience something that somebody else could experience which is the power of books Mi ha dato... ha aperto una finestra su un altro mondo per me mi ha dato la possibilità di provare quello che altri provano leggendo i libri cioè il potere dei libri La domanda più difficile The harder question Olivia, una domanda per Jeff? Where is your favorite book? My favorite book growing up was The Hobbit but my favorite book that I wrote is the first one right here il libro che preferivo mentre da ragazzino era Lobbit il libro che mi è piaciuto di più scrivere il primo diario di una schiappa Thank you so much Thank you Thank you Thank you